Immagini di altissima qualità e definizione grazie a una risonanza magnetica a campo alto così che il radioterapista oncologo possa bersagliare di radiazione il tumore con precisione quasi millimetrica senza danneggiare i tessuti circostanti. È una vera rivoluzione tecnologica e clinica il sistema Electa Unity installato all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrara, provincia di Verona, prima struttura in Italia e nel sud Europa a dotarsi di questa apparecchiatura all'avanguardia per la radioterapia dei tumori. Queste immagini che non aggiungono radiazioni a quelle che vengono utilizzate invece per la cura ci consentono di ottimizzare seduta per seduta in tempo reale il trattamento del paziente. La finalità ovviamente è quella di fare delle modifiche, delle correzioni che vadano a minimizzare il coinvolgimento degli organi sani e vadano invece a colpire il più possibile queste radiazioni la sede del tumore da eradicare e da guarire opportunamente. In Europa sono presenti sette macchinari di questo tipo, 11 in tutto il mondo. All'ospedale di Negrara sarà effettuato uno studio su 230 pazienti con quattro diverse situazioni cliniche, tumore della prostata, tumore del pancreas, pazienti con metastasi limitate a 5 e altri non più trattabili con la radioterapia convenzionale.